Pippo, perché non mangi solo e mangi solo così? Mi fai il dispetto a me, tu pensi? Tu pensi e mi fai il dispetto a me non mangiando? Ma io non ti posso liberare. Poi se non mangi, ancora meno ti posso liberare, lo sai Pippo? Se tu vuoi così, facciamo così. L'importante è che mangi, Pippo. Eh? Eh? È offeso, Pippo. Dice che non deve mangiare da solo. Solo così vuole mangiare. Eh? Così l'è che mangia. Nel piattino non mangia. Brava, Pippo. Ci serviva un'altra perdita di tempo, sai Pippo? Eh? È vero? Ma guarda quanto ne hai mangiata. L'hai quasi finita tutta. Eh? Brava, Pippo, bravo. Un bel po' la sta sputando. Ma tanta, tanta, tanta se la mangio, tanta, vero? Tanta, tanta se la mangio. E che lui è cattivissimo, vero? Ora appena sospendiamo che gli devo dare la pillola, si trasforma nel monellino che è, vero? Vediamo, vediamo, questa non la devi sputare. Eh? Dai, perché sei cattivo? Eh? Nessuno ti fa del male. Sei tu che fai del male quando meni. Fai bravo, no? Eh? Che brutto che sei quando fate così.